Giorgio Licini, ottimo per te l'impatto con il mondo del Cidi Berghi, primi mesi in giallo-blu, trovato subito anche la maglia da titolare, però il ballottaggio con Marco Lirli è sempre vivo. Sì, è stato un ottimo inizio di campionato sia per me che per la squadra. Il ballottaggio con Marco è sempre vivo perché entrambi ci alleniamo bene, quindi il post titolare è molto combattuto e dovremo conquistarci entrambi. Domenica è arrivata una vittoria importante sotto molti aspetti contro il Classe, una vittoria che dà anche un grande slancio verso il derby contro il Calvina. Sì, il nostro obiettivo ormai è la vittoria, ci stiamo allenando bene e quindi domenica puntermo a quello, come abbiamo fatto con il Classe. L'importante è vincere sempre. Ecco, con un Cidi Berghi che sembra molto sicuro di se stesso, di conoscere pregi e difetti, che idea ti sei fatto dopo due giornate del girone che stiamo affrontando, dove il Modena sembra già prendere un po' lo slancio? Sicuramente, un girone alla nostra portata, dove potremo fare molto bene, secondo me. Vedendo la squadra, pian piano ci stiamo conoscendo sempre più e faremo sicuramente bene questo campionato. Domenica contro il Classe si è sbloccato finalmente l'attacco, una vittoria importante, anche tu però sei andato vicino alla rete, non è la prima volta, sembra che quello di Carobbio sia un modulo che esalta le tue caratteristiche. Sì, è un modulo che mi piace, mi trovo bene, dove posso fare quello che mi piace e quello che vorrei fare e la rete speriamo che arriverà prima o poi. Io la cerco, l'importante è quello. Che partita ti aspetti domenica contro il Calvina? Una partita combattuta, è sempre un derby, quindi entrambi avremo voglia di vincere, però chi ci metterà più cuore vincerà. Grazie. Grazie a voi.